La libertà e partecipazione Cantava Giorgio Gaber tra il 1972 e il 1973 Ed è proprio sulla partecipazione della cittadinanza Che ha puntato Libera per manifestare contro gli ultimi atti di violenza Che si sono verificati nel quartiere a faccio di Vibo Valencia C'è bisogno veramente di segni Di segni di coraggio e segni soprattutto di speranza Dobbiamo avere soprattutto la speranza che qualcosa cambia e deve cambiare Altrimenti questo nostro territorio sarà una città desolata Avremo un territorio che sarà pieno di anziani, di vecchi Ma i giovani, le forze vive partono lontano Non vogliamo questo Vogliamo che sia una terra verde, ridente E una terra che dia frutti E per dare frutti dobbiamo dare un significato alla nostra vita Alla nostra azione e a questo camminare assieme I buoni Cerchiamo di allargare queste cerchie dei buoni Perché la stragrande maggioranza delle nostre città Della nostra Calabria, della nostra età, le stragrande maggioranza sono buoni C'è una piccola minoranza che fa rumore Una piccola minoranza che spara Che danneggia Che fa soprussi Ma è una piccola minoranza E se noi ci armiamo di coraggio Veramente saremo una buona invasione Di questo territorio di bene e di speranza Sono stati i giovani di Libera che hanno stimolato E la comunità è andata dietro E ci siamo per dire no ad ogni violenza Perché in questo nostro territorio non siamo solo Non è una questione di vibbo Ogni giorno fino a ieri sera Violenze indiscriminate ovunque Ecco, noi diciamo che nessuno può imporre la sua prepotenza Questo è il segnale E che se qualcuno vuole comandare Si mette a servizio del bene comune Così comanderà Non con la prevaricazione per il proprio torna contro Una fiaccolata per le vie del quartiere Alla quale hanno partecipato non solo gli iscritti a Libera Ma anche associazioni, singoli cittadini Amministratori e non solo vibonesi Tutti per dire no alla violenza La città reagisce E questo è molto bello Per la verità è molto importante Per dire che questi signori Che questi atti di violenza Saranno sempre isolati Questi signori che si abbandonano a queste manifestazioni Di inutile violenza Che peraltro poteva condurre veramente A pessime, a risultati completamente diversi E peggiori Questi vanno condannati E la città li condanna Questi vanno esclusi completamente Dall'appartenenza alla comunità E la città lo sta facendo Sono stati giovani Quelli che per primi hanno sentito l'esigenza di manifestare Di riappropriarsi di uno spazio Quello delle strade e delle piazze del quartiere Per poter guardare al loro futuro in maniera positiva Liberi dalla paura Che qualcosa di brutto vi possa accadere Era una manifestazione necessaria Perché è giusto che una città come Valencia Si sveglie e non abbassi la testa È un segno che diamo alla città Contro le intimidazioni sicuramente Di persone che ci vogliono intimidire Ma noi rispondiamo comunque come possiamo Questo è un simbolo Un segno della nostra presenza Che Vibo non è solo mafia Ma è anche partecipazione Rivendico il mio futuro